Furto di Stato. E così che Luigi De Magistris, nei giorni scorsi, ha definito l'arbitraggio di Orsato in Inter Juventus. Giampiero Mughini, noto giornalista e opinionista di Fede Juventina, ha commentato queste parole nel corso della trasmissione Matrix non è nient'altro che una espressione come un'altra per accattivare il favore popolare. Se mi permettete, è proprio una enorme caduta deontologica di rappresentante dello Stato. Grazie a tutti.